Sì, allora stasera iniziamo come di consueto con un cortometraggio, un bellissimo cortometraggio di animazione, abbiamo qui il piacere di avere con noi la regista Monica Manganelli che chiama qui. Monica Stavani ha incontrato un gruppo di studenti della Design Academy che appunto è una scuola, un'accademia che fra le varie cose fa anche animazione, è stato anche molto carino l'incontro, benvenuta Monica. Grazie per l'invito, sono contentissima di presentare a Firenze a questo festival Butterflies in Berlin e per la prima volta scolvuta nel cinema si parla di identità di genere e di locausto insieme e si racconta una storia molto poco conosciuta della prima donna transessuale operata, sopravvissuta all'operazione nel 1900 degli anni 30 a Berlino e questa storia è raccontata in quattro fasi come quattro sono le fasi della metamorfosi di una farfalla e attraverso i sentimenti e le emozioni del protagonista raccontiamo anche un cambiamento sociale, cioè la salita al potere di Hitler. Quindi il film inizia durante il periodo della Repubblica di Weimar ma si conclude con l'ascesa al potere di Hitler. Grazie Monica. Potrebbe essere bello, però il potere dell'immagine, del disegno in realtà dà anche poesia, aggiunge poesia a quello che ovviamente vi ha appena detto Monica.